Ritardatario cronico, notambulismo obbligatorio, tu che mi aspettavi a cena e parli con la luna piena che male c'è, non è nemmeno mezzanotte ancora e allora tu perché mi strilli viola alla buon'ora, mi strilli viola, alla buon'ora, mi strilli viola, alla buon'ora. Ladies and gentlemen, madame, monsieur, il fantasmagorico, uomo dai capelli tagliati, Simone Lemmo. Eccoci qua, buonasera, buon lunedì, bentornati nel salotto, nell'otto della notte di Cusano Italia TV, quella della buon'ora, ripartiamo insieme una nuova settimana, pronti a raccontarvi delle storie, delle emozioni, a divertirci, davvero ad accogliere tanti amici e tanti super ospiti anche accompagnati dalla musica del nostro PG. Alla buon'ora Simone, sei stato al barbiere, per cui l'hai fatto tardi? Sono stato al barbiere, ho perso un po' di tempo, come puoi vedere, il barbiere notturno, ma ti piace questa nuova acconciatura rispetto a come mi hai lasciato la settimana scorsa? Sì, va bene, va bene. Senti, com'è andato il weekend? Com'è andato Spiechisi, che non si può dire troppo ad alta voce? Abbiamo fatto delle puntate molto clandestine, parlate di cultura, ma non diciamo, sennò arriva l'ispettore, che è già le nostre calcagne. Anche perché noi abbiamo capito che la cultura è proibita. Sennò tutti i governi del mondo l'hanno proibita. Vabbè, noi la spacciamo, tu la spacci il fine settimana, va bene. Una volta vieni anche te a spacciare. Va bene, quando vuoi spacciamo tutti insieme. Cominciamo questa nostra nuova settimana insieme, la quarta, la nostra sedicesima puntata di Alla Buonora davvero con una grande donna. Per me è un grande onore, un grande piacere accoglierla nel nostro salotto, ma non ha bisogno di presentazioni, ma la accogliamo con queste immagini. Grazie. 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 Nel nostro salotto, Margot Sicaboni! Buonasera, buonasera Margot, benvenuta, grazie a te. Come stai? Benvenuta, accomodati. Grazie. Grazie a te. Posso dirti subito una cosa? È stato difficilissimo scegliere una sorta di best-off, di omaggio alla tua carriera. Che bello. Beh, è bella sta cosa. Assolutamente sì, perché... C'era un po' di roba. Un bel po', un bel po' di roba e ti svelo anche un'altra cosa. Ci siamo anche emozionati nel rivedere dei pezzi, nel ricostruirli. Tu che rapporto hai con le cose tue quando li riguardi, quando ti rivedi? Eh, anche io mi emoziono. Mi emoziono soprattutto i primi lavori che ho fatto. Dove ero veramente piccoletta. Il lavoro che mi emoziona di più, forse è proprio il primo. Cioè, quando vedo la scena con cui ho iniziato la mia carriera, perché è stata una rivelazione quella scena lì. Io sono arrivata sul set senza avere la minima idea di che cosa stessi andando a fare. Cioè, avevo 11 anni, mi aveva accompagnato mio padre, né io né lui sapevamo come funzionasse sta roba. Io ero una bambina estremamente timida, cioè proprio stavo sempre all'angoletto, no? Mi esprimevo solo attraverso la danza, quella era la mia forma di comunicazione. Comunque, niente, mi dicono allora, guarda, funziona così. Qua c'è il segno, mi indicano un X per terra. Mi dicono, adesso tu ti devi mettere lì. Quando diciamo azione, parli. No, dici le tue battute. Io dico, vabbè, proviamo. Fa questa cosa. Comunque, con timore, perché c'erano le luci, tante persone, io timida, no? Il fatto sta che mi metto su questo segno, no? Motore, azione, io inizio a parlare e per magia mi sento libera. Mi sento più libera che nella vita normale. E io questa, come dire, questa sensazione che mi ha dato questa mia prima scena me la porto appresso nel corpo, proprio come una memoria sensoriale che per me è stato, quindi, appunto, l'inizio di tutto. Perché ho capito che quella roba lì forse era qualcosa che in qualche modo mi faceva sentire a casa. È stato un motore, cioè, a cazione, che poi ha portato, no? Quasi a dare il via, invece, a quello che magari inizialmente non era un sogno, che poi lo è diventato e che poi in pochissimo tempo si è trasformato in realtà. Prima, però, voglio anche far dire una cosa ai nostri amici a casa, perché loro si sono salutati, però dovete sapere che qui c'è un sottotitolo in questo programma. Alla buon'ora, caramba, c'è Pigi. Perché qui si conoscono tutti, tutti conoscono Pigi. Perché non conosce Pigi? Abbiamo lavorato in qualche caso insieme. Con alcuni degli ospiti e con Margò siamo stati molto bene in un gruppo bellissimo che si chiama Voci nel Deserto. Adesso sta lavorando un po' o meno questo gruppo, anche perché ci siamo dislocati tra Roma e Milano, però abbiamo fatto delle belle serate, vero, Margò? A voglia, a voglia, a parlare di roba bella, proprio a illuminare i cuori nostri e di chi ci ascoltava. Vero, vero. Magari, diciamo, chissà, magari la buon'ora diventa l'occasione per fare la reunion, perché pian piano li stai rincontrando tutti, Pigi, praticamente. Allora, sì, faremo... Chissà. Secondo me ne abbiamo anche parlato con gli altri ragazzi di Voci nel Deserto, in onore alla nostra amica Ketty, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, che magari ci sarà una reunion prima o poi. Vediamo, però sappi che questa esclusiva la vogliamo noi, Pigi. Io lo sto dicendo anche in presenza di Margò. Testimone. Sapete che... Torniamo a parlare di questo sogno, di fare l'attrice, dicevamo prima che poi si è realizzata. Tu, un tempo fa, in un'intervista, parlando di questo mestiere, hai detto la verità è che noi attori perdiamo la testa, ci facciamo convincere che siamo supereroi e poi pensiamo di essere migliori. Che supereroi vorresti essere? Se riuscissi già a essere un essere umano radicato e presente, mi sentirai abbastanza, come dire, con dei superpoteri importanti, ecco, perché poi invece quello che mi ha offerto il mio lavoro è stato proprio anche l'inizio di pormi delle domande che mi hanno portato nel mio percorso, che poi è stata la possibilità di incontrarmi in maniera molto più autentica e vera di quello che mi veniva offerto all'esterno, perché arrivi a questa cosa che si chiama successo e ti rendi conto che non succede niente se tu rimani nella tua testa, nel tuo ego, pensando di essere appunto diverso improvvisamente, meglio di... Io incontravo tantissime persone con estremo successo, di estremo successo che erano estremamente infelici e quindi, come dire, a 15 anni avere a che fare con quel tipo di specchio rispetto alla realtà è stato enorme per me, perché poi mi ha dato la possibilità davvero di avviare invece dentro il mio io delle domande importanti rispetto ma cos'è sta vita? Cos'è veramente il successo? Cioè, ridefiniamo la parola successo, togliamo tutti i connotati a cui... No, ci hanno detto che quello è la felicità, che quella è la gioia. Visto che non è così, allora io dovrò trovare la mia risposta. Che cosa ti ha portato invece, Margot, ad essere migliore? Visto che tu hai detto anche noi pensiamo di essere migliori, ma mettendo da parte la vita da attrice, la tua carriera lavorativa, come donna che cosa ti ha fatto essere migliore col tempo? Ma allora, guarda, chiaramente mi viene da pensare subito ai miei figli perché sono loro i miei maestri, nel senso che quello specchio, ecco, parlando proprio di specchi, lo specchio delle realtà che ti rimandano loro è immediato e da lì non si scappa. C'è una richiesta di responsabilità costante, di presenza, di radicamento. Cioè loro sono i veri maestri di questo, perché se tu affronti un bambino e non sei presente, non sei radicato e stai pensando ad altro e sei stressato e non c'hai voglia, succede quel gioco incredibile in cui il bambino poi, no? I capricci, esplode, esce di testa. No, tutto quello in realtà è un richiamo alla tua di presenza, genitore. Non scappi, anche questo allenamento all'amore incondizionato, questa roba allarga, ti allarga veramente umanamente rispetto al bacino che tu pensi, al confine che tu pensi di avere rispetto al mondo. Quindi loro sono stati i miei più grandi maestri. Il mio percorso però è iniziato con la morte di mio padre quando avevo 15 anni. Quindi diciamo che o vita o morte sono degli avvenimenti abbastanza forti che ti portano a, secondo me, ridistribuire le priorità. Tra l'altro abbiamo anche una foto molto bella. Chiedo alla nostra regi di mandarla, proprio di Margot con il papà. Una foto che i nostri autori hanno trovato. Uno scatto anche lì di una margottina, diciamo così, molto piccola. Piccola, ma è bellissima questa foto, grazie. E da qui passiamo invece, visto che tu citavi i tuoi figli, abbiamo anche uno scatto con uno dei tuoi figli. Tu prima ci stavi raccontando tra le cose più belle che loro ti hanno insegnato, che ti stanno insegnando quotidianamente. Tu una volta e sempre in un'altra intervista parlando dei figli hai detto quando parlo con loro gli dico sempre che non esistono sbagli, non siamo sbagliati se sbagliamo, non si può scappare dalla nostra verità. In qualche modo si arriva sempre lì, uscirà fuori e anche dentro il nostro corpo. Se la ignoreremo, ci divorerà. Tu l'hai mai ignorata la verità? O se sì, per quanto tempo? Assolutamente. Diciamo che stare dentro la verità richiede appunto di sempre. Presenza e radicamento che sono poi delle cose fondamentali che non sempre siamo disposti a fare. Quindi la non verità, cioè come dire, siamo in una società che non ci invita, secondo me, veramente ad affrontare la verità, perché è scomoda la verità. Se siamo nella nostra verità, in qualche modo forse usciamo anche da un sistema che invece ci vuole dentro la verità che ci propone il sistema. Quindi è difficilissimo nuotare controcorrente. Oggi ho sbagliato, oggi ho perso la pazienza, oggi ho fatto quello che non avrei voluto fare, però ecco, credo che proprio questo sbaglio, invece insegnargli a sbagliare, non a essere perfetti, perché questo è un altro messaggio che ci lancia la società e siamo tutti perfetti, dobbiamo essere perfetti. Questo chiaramente non esiste. Quindi insegniamo ai nostri figli a sbagliare. Quindi oggi io ho sbagliato, ho chiesto scusa ai miei figli per aver sbagliato e anche questo concetto, no? Credo che sia, è quello che poi ti dà i superpoteri nella vita. Cioè riuscire a essere in grado di sapere come stai, quindi le tue emozioni quali sono. Mamma era nervosa, sbagliato, si è arrabbiata e non si urla così, però ha perso la pazienza. Io ti chiedo scusa. Questo secondo me dovrebbe essere un modello genitoriale sano che in qualche modo li prepara ad affrontare se stessi nel mondo. Tra l'altro, Margot, le cose che ci stai raccontando ci danno la possibilità di ritornare anche a quel punto di partenza. Siamo partiti da cosa significa essere migliori, come si fa in qualche modo a diventare degli uomini e delle donne migliori. E nel tuo percorso di donna ci sono stati, come dicevi tu, questi momenti in cui hai fatto i conti con te stessa, hai imparato a prendere il buono dalle cose, dalle persone, e ti sei, tra virgolette, passami questo termine, forse anche reinventata e riscoperta tante volte, perché poi tu hai girato il mondo, hai appreso tutto quello che si poteva apprendere, o comunque ci hai provato, no? In qualche modo fino ad arrivare a quel momento in cui dici io voglio essere una donna migliore, ci provo, imparo a scoprire, a trovare la mia verità, partendo comunque da un elemento, che poi forse è diventato anche il mantra della tua vita, che è quello, Margot, fermati, respira. Sì, ci ho scritto un libro, per quanto è importante per me, questa parola respira grande. Che abbiamo tra l'altro visto. Grazie a questo libro. Sì, perché per me, quando io ho capito che c'era questo potere dentro di me, è stata una ripresa fondamentale, una ripresa di potere fondamentale il concetto di respirare, perché quando metti in pratica questa cosa semplicissima, veramente ti riscopri presente, e quando tu sei presente non sei più ingabbiato in quello che è successo prima, in quello che va a succedere dopo, in tutta quell'ansia, nell'aspettativa esterna, nel non sono abbastanza, tutti questi meccanismi che invece ci intrappolano, non ci rendono liberi, questi non siamo liberi, ma non siamo liberi dentro la nostra testa. Siamo noi stessi che ci incarceriamo. Quindi quando io ho capito quanto veramente il respiro, fatto quello radicato, diaframmatico, quello che respiri e sei veramente nel tuo corpo, se torni nel tuo corpo, torni presente, è qualcosa che ti rimette il potere nelle tue mani, è troppo, è rivoluzionario, lo possono fare tutti, non costa niente. Questo per me è così importante che poi ci ho dedicato una parte della mia vita, perché poi ho iniziato a insegnare yoga, sono diventata insegnante di yoga, ho iniziato a insegnare questo, per me è un messaggio questo da dare ai giovani, ai più grandi, alle donne, alle madri, che sempre vivono il senso di colpa, di non essere abbastanza. Fermati e respira, perché tutto quello che tu stai cercando fuori, intorno, comprando, mangiando, tutto quello che stai cercando in realtà già ce l'hai. Quindi quando tu parlavi di migliorare, io non so se userei troppo però questa parola migliorare, perché partiamo se no da un concetto che noi siamo sbagliati, ma non è così, non siamo sbagliati, è proprio tornare semplicemente a ricordarci chi siamo, cosa siamo. Perché quando siamo nati, no, eravamo già pienamente presenti nel nostro respiro, nel nostro corpo, ce lo siamo solo scordati. Quindi si tratta davvero solo di tornare a ricordarselo. Volevo chiedere a Margot, siccome io ti seguo sempre sui social, volevo sapere il tuo rapporto con i social, cioè hai queste meravigliose tazze di te, che sono fantastiche, perché poi è un format che si è inventato a metà, tra la recitazione e l'improvvisazione, un po' è social, un po' però è anche il tuo mestiere. Quindi volevo chiederti il rapporto che hai con questi mesi. E tra l'altro sui social porti anche il mondo dello yoga, della respirazione, perché anche quello arriva lì. Sì, sì, no, perché appunto quando ti sei reinventata, in realtà ho scoperto chi sono, io sono anche tutte queste altre cose, e sono però ancora tanto attrice, quindi mi sembrava meraviglioso poter parlare dei concetti del respiro, del radicamento, della presenza, però se lo dici così la gente si annoia, cambia canale, cioè proprio scorre via, che palle, questa mi dice di respirare. Quindi ho detto cosa può essere? Invece è un modo che arriva, più comunicativo verso le persone, dove si ritrovano. E quindi è arrivata questo format, chiamiamolo così, della tazza, dove proprio mi sono catapultata, cioè quella è la verità, non è che c'è qualcosa di non vero, lì so io la mattina che esco con la tazza di te, perché non c'ho tempo di far colazione, e vediamo questa, Margot con la tazza di te ovunque, in mezzo al traffico con questa tazza, è meraviglioso. Mi sono ispirata al grande Le Boschi, quando entrava a fare la colazione con la ciotola dei cereali, al supermercato, scusa, al supermercato con la ciotola dei cereali, io lì, quella scena per me è mitica, e quindi la tazza ovunque, che però è l'appiglio per parlare con le persone di queste tematiche, che qui non ti senti abbastanza, sei sbagliato, c'hai paura, sei perso in questa corsa anche te, e quindi non penso di avere la soluzione, assolutamente, semplicemente offro quello che per me ha funzionato. E come stavi dicendo tu, offro agli altri, quello che ha funzionato, prima dicevo anche sui social, questo in qualche modo lo fai, però è diventato anche un progetto molto più importante per te adesso. Sì, è diventato un progetto importante, da settembre ho deciso di avviare quello che io avrei voluto trovare nel mio percorso, perché tante persone mi scrivevano dicendo ok, allora io però mi sento così, questa cosa non mi basta, non so dove trovare, dammi dei consigli, cosa posso fare? Allora ho detto, allora visto che nel frattempo sono laureata in psicologia, sono diventata health coach, oltre a essere insegnante di yoga, continuo con i miei studi di specializzazione, ho deciso di creare un luogo che in qualche modo contenesse tutto quello che aveva funzionato per me, e sono tanti gli aspetti, perché il nostro è un sistema olistico, tutto è collegato, quindi come mangi anche andrà a influire il tuo umore, il tuo stato d'animo, come ti occupi del tuo intestino, quanto dormi, quant'acqua bevi, cioè come dire, ci sono tante cose a cui pensare, perché questo corpo, questo tempio è incredibile, però bisogna conoscere, bisogna prendersene pure in un certo modo a mio avviso, e quindi ho deciso di unire tutto quello che mi ha aiutato in un'academy casa, in realtà è più casa che academy, che è tutto online, affinché tutte le persone possano ritrovarsi lì, ci incontriamo ogni mercoledì, pratichiamo insieme, c'è un portale a cui tutte le persone hanno accesso, ed è qualcosa di pratico, perché ci sono tanti concetti sul come si può stare meglio, e io ho voluto fare qualcosa di estremamente pratico per la gente, perché vabbè, e quindi che devo fare? Ecco, io ho cercato di rispondere alla domanda, e quindi che devo fare? Tutto in questo luogo, in quest'academy che si chiama Arte del Sé, perché è una forma d'arte riuscire a essere presente in questo modo con se stessi e il mondo, e quindi, ecco, se sono interessati trovano tutto sull'avvio della mia pagina Instagram. Come dicevi tu, prima, un'occasione per incontrare magari nel nostro percorso, quello che dicevi, anche io avrei voluto davvero incontrare delle cose simili sulla mia strada, quindi è davvero un'occasione. Margot, permettimi di tornare un attimo indietro, perché tra le tante cose che abbiamo analizzato, prima tu hai, ti sei soffermata molto sulla reinterpretare, analizzare il concetto di successo, soprattutto quando arriva all'improvviso, quando non è aspettato, quando sei appunto una ragazzina e non sai come gestirlo. Io faccio fatica a non parlare con te anche per qualche istante del grande successo di un medico in famiglia, anche perché poi tra l'altro tu sei stata a Venezia, ne parleremo tra un istante, chiunque ti ha chiesto della reunion di medico, di medico 11, insomma, quando si rifà, quando si rifà. Tra l'altro anche lì tanti pareri, tutti disponibilità, staremo a vedere, però io voglio farti rivedere una cosa che non so se ti è mai capitato di rivederla, voglio farti vedere la prima dichiarazione d'amore di guido a Maria in un medico in famiglia. Riguardiamolo con Pietro Sermonti e Margosi Caboni. Vivere in pace, tranquilla, va bene, per favore. Tu vuoi capire che io ti amo o no? Scusa. Ho detto che ti amo. Io non l'ho mai detta nessuno in vita mia ti amo, lo capisci questo? Solo che adesso io non so come altro esprimere quello che mi succede dentro, non so come si fa, mi sento che devo prendere un mandolino, mi metto in ginocchio per terra, che devo fare? Dimmelo te che devo fare, me lo spieghi, io lo faccio. Se tu sapessi solo da quanto tempo io voglio dirti che ti amo, sono mesi che ti voglio prendere per mano, guardarti negli occhi e dirti che ti amo, io stanotte volevo prendere a botte tutti il ragazzino che ti ha portato a spazio. Una davvero delle scene più emozionanti, più toccanti di quelle prime stagioni di Medico, dei primi approcci, incontri con Guido Zanin, insomma, e poi personaggi che sono cresciuti, c'è ancora chi non ha superato la morte di Guido, insomma, ne sono successe di ogni, Margo. È vero, è vero, beh, 20 anni di serie ne sono successe davvero di ogni, cioè, chi c'è cresciuto, Eleonora aveva due anni quando era sul set e ancora non parlava e io ce ne avevo 14 e sono uscita che ne avevo 30, quindi, veramente di tutto. Tra l'altro è una cosa bella, tornando anche al discorso dei social, tu e Eleonora siete, insomma, sorelle, vi definite, nella vita, c'è un bellissimo rapporto con Milena Vukotic, tu una volta hai raccontato ogni volta che vedo Lino Banfi mi commuovo, mi emoziono, forse anche lì è una declinazione anche lì di famiglia, inevitabilmente. Assolutamente, per forza e per fortuna. Io penso anche che tutto il successo che questa serie ha avuto incredibile sia stato anche per, no, come dire, proprio perché l'affetto e il rapporto che c'era tra di noi era qualcosa di reale e quindi, e questa cosa la gente la percepiva, come dire, c'è ancora tantissimo, chiaramente, tantissima. Anche perché passavate ovviamente tanto tempo insieme, no? Eh, certo. E poi cresci dai 14 anni ai 30 nell'altro quello che dicevamo prima, eri nel cuore dell'adolescenza e ti trovi catapultato in questo mondo. Quella era la mia famiglia, cioè io stavo più con loro che con la mia famiglia, assolutamente sì, quindi, cioè stavamo... È un piccolo Truman Show, diciamo. Sì, esatto. Meraviglioso. Amato da tutti noi. Per essere giusti anche nella nostra narrazione, vediamo come è andata a finire la storia di Maria Martini, perché poi dopo Guido Zanin c'è stato appunto Marco Levi, interpretato da Giorgio Marchesi, che salutiamo, i nostri autori non hanno montato la dichiarazione di Marco Levi, ma abbiamo un best-off dei vostri baci. Vediamo i baci di Maria Martini e Marco Levi. Bene. Bene. Grazie a tutti. Questo è il finale della nona stagione dove lasciamo Maria che poi, insomma, si trasferisce a Torino in attesa di questi gemelli. Senti, facciamo un volo pindarico, passiamo da quegli inizi che poi sono diventati vita importante, carriera importante, uno dei tuoi ultimi progetti che mi fa molto piacere raccontare. Perché questi anni hai portato al cinema un progetto importante, un film importante dal titolo Bocche Inutili che dà la possibilità di raccontare, analizzare la figura femminile da un altro punto di vista ancora. Certo. Questo è stato un film molto, come dire, che mi ha proprio, mi ha richiesto un radicamento profondo. Era una storia che raccontava di una giovane donna che veniva presa e portata in un campo di concentramento a Ravensbruck, in Germania, un campo realmente esistito. Prima veniva portata a Fossuli dove abbiamo davvero girato e poi a Ravensbruck e questo è il film che racconta la vicenda di questa donna ma non racconta soltanto la storia dell'olocausto, racconta la storia della femminilità negata. In particolar modo l'attenzione è stato proprio messo su questo argomento e quindi è un film estremamente attuale, ahimè. Lo vediamo, un estratto di Bocche Inutili con la protagonista a Margo Sicaboni, guardate. Fine della corsa per il partigiano. Quando i nazisti hanno rastrellato il quartiere ebraico, i miei marito, i miei genitori, i miei nonni sono stati portati via con la forza. Sono Sara. Sibema. Curia. I camion, ragazzi, parlano tedesco. Qui ci appazzano tutti. Sono militati animali da circa adesso. Non so cosa ne sarà di me. Poche ore ho perso ogni riferimento. Ho fatto 12 giorni tra viaggi, mezzi e attese per arrivare qui, a Raversbrook. Il nostro corpo non ci apparteneva più. In questo turbinio di emozioni voglio conservare una speranza. Pezzo di essere un cilio. Come faccio? Ti aiuto io? Verotei ha scoperto che ho una delle donne incinte. Non ce la faccio più. Non ho più forze. Ma come siamo diventati? Come l'SS? Cinque mesi e mezzo. Tre secondi. Stupide mocca inutili. Così ci definiscono. Forse non ce la faremo. Ma almeno moriremo da donna. Basta! L'ordineo con tutta la sua forza quando senti che arriva alla contrazione. Ci tenevo davvero di cuore a mandare insomma questo trailer di Bocche inutili che davvero vi invito a guardare. Lo trovate in streaming. Non ve lo perdete. Margot, per salutarci. Prima, mentre che chiaravamo e parlavamo di Venezia, vedevamo proprio l'abito che tu hai indossato durante la mostra del cinema di Venezia con un messaggio anche qui particolarmente importante perché anche questo fa parte poi delle cose di cui quotidianamente ti occupi. Sì, era un messaggio sulla sostenibilità ambientale, questo è un vestito dello stilista artista Tiziano Guardini che si occupa soltanto di moda sostenibile, quindi il tessuto è fatto con un tessuto speciale derivante dal riso e le illustrazioni sono di Jacopo Ascari, un illustratore meraviglioso che ha preso dei bozzetti veneziani, l'artigianato veneziano perché sono stati proprio delle sarte veneziane che hanno cucito il vestito e quindi era un messaggio questo vestito, un vero messaggio rispetto alle nostre azioni, cosa decidiamo di mettere, cosa decidiamo di mangiare, cosa decidiamo di indossare. Margot, grazie davvero di cuore, sarebbero tante altre ancora le cose di cui potremmo parlare, quindi quando vuoi torna se sei stata bene, se sei trovata bene. Rispira la ricerca della calma nel caos, l'arte del sé, l'accademia firmata da una donna incredibile, straordinaria che è Margot Sicaboni, grazie davvero di cuore. Chiamala una volta al mese, Simone, perché è talmente brava, talmente naturale quando recita, poi fa tutte queste cose belle, impegnate, parla del sé, è brava in tutto, veramente fantastica. E allora è un appuntamento che riprendiamo, turni alla buona ora. A presto allora. Grazie a Margot Sicaboni, pubblicità e tra poco il salotto, rimanete con noi, grazie. Ben tornati alla buona ora, grazie ancora a Margot Sicaboni per essere stata con noi, per essersi raccontata in maniera intima, personale, tra le tante sfaccettature del suo essere donna, ma soprattutto anche quelle della sua carriera. Come sempre l'intervista la potete recuperare sul sito di Cusano Italia TV. e adesso è il momento più atteso, quello del nostro salotto, già li vedete schierati, partiamo da loro, la professoressa Martina Gatto! Buonasera, buonanotte! Lo studente! Lorenzo Amatulli! Buonasera, buonasera a tutti, buonanotte la stessa notte. Ma col grembiolino, lo zainetto. Sì, iniziamo a fare un po' di giochi, un po' di giochi di ruolo, è incredibile. Ma non ti sembriamo Pierino ed Edwidge Fennec? Sì, non so se lei è più Edwidge o tu sei più Pierino, posso dire? Vabbè. Non sei più Pierino, ma... Valeria Rossi, buonasera, è il nostro veterinario del cuore, Luca Giansanti, bentornato, e poi la regina della notte, Paola Aspri! No! Buonasera! Buonasera! Buonasera Paola, guarda, noi stiamo applaudendo, ma meriti una standing ovation, Paola. Brava! Beh, vabbè, le vedi sono tutte in tita, e poi insomma diciamo che mi sembro più la Catwoman. Ma vabbè, possiamo dire che comunque questa sera partiamo benissimo con questi giochi di ruolo, la professoressa e lo studente, Paola Mascherata. Valeria e Luca, voi che fate? Ma guarda, sono qui così, tanto per... volevo fare giusto due domandine più in là, innocue. Luca, ma tu da cosa vorresti mascherarti? No, io... No, così per dire, è Halloween tra poco. Ma guarda, a me piace tanto Joker, a me piace tanto tanto Joker, quindi credo che mi travestirò da Joker e continuerò ad andare come faccio tutti gli anni da quando sono piccola a chiedere le caramelle. Bene, noi per Halloween è un martedì, voi venite il lunedì però ci organizziamo ugualmente. Certo! Valeria, tu che vorresti fare? Come ti vorresti travestire? All'Halloween? Ma in generale! Come fai? Certo! Ma non ad Halloween! Cioè, Simone sta scherzando come lo siete regalati! Ma questa sera sembrate tutti santificati! Cioè, cosa è successo? Cioè, cosa è successo? Siete stati insieme, esatto! Stai a sentire a me, io mi vorrei vestire da bambola voodoo! Eccoci! Ma per il semplice fatto di voler far fare alle persone il cacchio che mi pare! Bene, c'è una persona qui in salotto! Senti, allora io ti... io ti te la vestirei di Anna, bella! Bellissimo! Comunque, la bambola voodoo! È bellissimo come travestito! È bellissimo! E ti dirò, Paola, l'ho anche cercato! La bambola voodoo! Ecco! Viene punta dagli spilli! Lo so, ma non si può vedere perché ho gli stivali, ma ce l'ho tatuata! Ah, ma se vuoi togliamo gli stivali per i nostri amici... Il dry needling è illegale in Italia! No, poi fai il picco di ascolti! Il dry needling è illegale in Italia! Ma noi non lo diciamo! Ok, ok! È tutto meraviglioso in questo salotto, posso dire, va bene! È illegale finché non si sa! Sotte, ma non ti sembrano tutti un po' santificati questa notte? Molto, molto! Bisogna un po' stoganarvi alla pazza gioia! Cioè, che è successo? Qua noi partiamo dalla settimana... Non lo so! No, lo studente no, però, eh! Ecco, ecco! Lorenzo non lo è, sicuramente! Anzi, complimenti per le 50 sfumature di blu di Paola! È vero! Esattivamente! È vero, guarda! Paola, ma non ti stiamo convincendo così innocui? Non la convinciamo? No, non ci piacete! Possiamo essere noi stessi, quindi? Cioè, fate qualcosa! Fate qualcosa! Vabbè, allora ti dicevo! Ragazzi, calmo! No, non ci piacete! Vorrei vedere la parte di Valeria Cicinca, proprio, nel rombo di Annabelle, con i figli pugnali, secondo me! Vabbè, ci organizziamo e la facciamo in diretta, questa cosa! Il mio dark side, Paola, lo sente! Allora, abbiamo cominciato con questo, come dire, momento istituzionale, voi siete tutti tranquilli, istituzionali, ma ancora per poco! Direi di partire dalle domande del nostro veterinario, perché vi ricordo sempre, ogni venerdì il nostro Luca Vette sui social mette il box con le domande e noi lunedì sera rispondiamo. Luca, vediamo che cosa ti ha chiesto il mondo del web questa settimana! Allora, io potrei potremmo testare, Luca, una tua foto in boxer, vediamo che ti chiedono! Luca, ma chi sei così timido? Oggi è timido! Ma no, ma non sono timido, è che non metto i boxer, metto gli slip! Ah, ha capito Paola! E allora sei venuto adesso! Ho capito, ho capito Paola, il problema è che lui mette lo slip, non mette il boxer, però... Insomma, nel senso a volte... Ma io ho capito i boxers di quelli attillati, eh! Ma non di quelli attillati! Allergia? Ma allora, no, non esistono razze di gatti che non danno allergia, l'allergia al gatto è legata alla produzione di una proteina, anzi due proteine, la fel di 1 e la fel di 4 e alcune razze hanno un'espressione inferiore di questa proteina, quindi risultano meno allergizzanti all'uomo, quindi esistono le razze meno allergizzanti di altre, però dire che non esistono gatti che danno allergia è sbagliato! È sbagliato! Prossima domanda, vediamo! Per Luca Giansanti, il nostro Luca Vett, per far vomitare il cane, va bene l'acqua ossigenata? Allora, ne abbiamo sentite di tutti i colori, sale in bocca, acqua ossigenata, il metodo migliore è portare il cane dal veterinario che utilizzerà l'apomorfina, quindi un vomito controllato farmacologicamente. Certo, se siamo sul cucuzzo della montagna, non possiamo portarlo a ingerire un qualcosa che può rivomitare senza fare del male all'esofago e allo stomaco, assolutamente l'acqua ossigenata è meglio del sale, però ecco, a livello empirico è sempre meglio evitare. Ultima domanda, per il nostro Luca Vett, la vediamo al volo, i gatti vanno microcippati? Eh, allora, non c'è ancora l'obbligo, probabilmente verrà messo anche l'obbligo di microcippare i gatti, ma assolutamente sì, voglio infatti stimolare, voglio incentivare la microcippatura nel gatto, perché se iniziamo adesso a microcippare i gatti, fra 50 anni magari saremo come adesso con i cani, quindi un randaggismo veramente limitato. Chi è il nostro veterinario preferito? È perché proprio Luca Gianzanti, è così, grazie Luca, continuate a fare le domande, torneremo ovviamente a rispondere il prossimo lunedì e adesso, uomini, donne dello spettacolo, tremate, tirate fuori i vostri avvocati, perché arrivano le pagelle di Lorenzo Anatulli! Proficatta, posso tirare fuori il quaderno dallo zaino? Che succede? Io mi sono preparato tantissimo! Sì, prego, solo il quaderno, mi raccomando. C'ho la merendina dentro lo zaino. Ma cos'altro c'è nel zaino? Possiamo sapere qual è? Ah, ma tu che è sexy oggi vestito. Possiamo sapere cos'è la merendina? È una merendina. Ma è dello stesso colore dello zainetto? Era l'unico frutto dell'amore, no? Vabbè, allora. No, 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 quelle ormai sono passate in moda. Peraltro c'è molto potassio. Eh, capito, serve per la cosa del coso. Serve, serve, serve. Esatto, fa bene, no veterinario? Qual è il suo compito oggi? Molto bene, molto bene. Oggi ho portato il mio compito e ora mi sostituisco alla mia teacher e quindi diamo i voti, Simone. Vai! Partiamo subito da un trio d'eccezione, stanno avendo grandissimo successo. Perché ridi? E ride, vabbè. Stanno avendo grandissimo successo nei loro programmi, ci sono arrivati per meritocrazia. Sì. Stiamo parlando di Caterina Balibu, di Pino Insegno e di Max Giusti. Anche il punto. Noto dell'ironia. Cioè, nel senso. Noto dell'ironia. Io, cioè. Allora, la volta buona, il mercantismo fiera, fake show. Fake show. Loro sono i nuovi volti, diciamo nuovi, anche se poi c'è chi fa televisione da tantissimi anni. Io l'avevo visto tipo in terza serata, a volte anche più tardi di noi, Simone, con bassissimi risultati, gli stessi risultati inferiori che sta portando su Rai 2 con il mercante in fiera. Stiamo parlando di Pino Insegno. Anche Caterina Balibu non sta poi ottenendo grandi consensi, nemmeno grandi ascolti. Ricordiamo che la Balibu arriva su Rai 1, anzi fa un ritorno. Lei l'ha sottolineato, come tutte le volte che io lascio e torno con i miei ex. È una battuta perché non c'ho ex dal 2000. Però questi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Dalla 7 mi ritrovo di nuovo su Rai 1 con la volta buona, non è la volta buona di Caterina Balibu. Mi dispiace oltretutto perché la trovo anche competente rispetto a tante altre che ci troviamo in tv, però non era la sua volta buona, soprattutto se arrivi dopo Serena Bortone, che era riuscita a conquistarsi il pubblico, era riuscita a capire qual era la chiave per stare in quella fascia oraria. Paola, la tua espressione era molto eloquente, posso dire? No, ma posso dirlo, non voglio cominciare il progetto a diamo a tutti. No, ma dici, è un agoraco, ci piace. No, 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 nel senso, tutto quello che ha detto mi sta benissimo, tranne Serena Bortone, perché Serena Bortone sta bene dove sta adesso, su Rai 3, secondo me. Quella è la mia, diciamo, non mi è mai piaciuta, e me ne piacerà, però ovviamente sono, sono delle, diciamo, dei gusti particolari, no? C'è chi ama, io amavo molto la Balivo, ma in questa edizione non mi piace per niente, l'hanno messo veramente sotto tono. È stata colpa di qualcuno che ha scritto, diciamo, il programma, secondo me, non è adatta. Quindi anche tu non promuovi, insomma, il ritorno di Caterina Balivo, abbiamo parlato anche di Pino Insegno, su Max Giusti che mi dici? Ma su Max Giusti che è l'unico che si salva tra loro due, cioè tra loro tre, diciamo, oltretutto è quello che in TV sulla Rai c'era anche un po' prima, e forse, forse, perché io non sono un critico televisivo, Simone, io esprimo le mie pagelle in base ai miei gusti personali. Infatti, sono di Amatulli, noi ci allontaniamo da tutto, non siamo d'accordo, prendetela con lui. Per quello vi preciso già che anche quando Ambra farà l'1% prenderà 10%, però a parte questo, in ogni caso è un coming out proprio ora, a quest'ora dopo la mezzanotte, ma per dirti, non è arrivato lì per meriti o simpatie politiche, ci possono essere, non ci possono essere, però uno teneva i comizi di, l'altra era amica di Max Giusti, diciamo, che si è ritrovato lì in questa 3D, ma il suo programma, che è un copia e incolla di quello di De Martino, stasera tutto è possibile, diciamo che non ha conquistato il pubblico, ed è un vero flop, non è una parola che mi piace, però. Che voto diamo a questa triade? 4! 4! 4! E sono stato buono, diciamo che 4 ha alzato la media a Max Giusti e la Valido, altrimenti toccavamo lo zero spaccato con il grande mercante in fiera. E invece parliamo di un personaggio, di lei, noi non parliamo mai. Allora, se c'è Amatulli, c'è un Rodriguez. Ma anche perché tu sei stato a Massachusetts, perché adesso deve fare un corso intensivo su Belen e Rodriguez. Ho studiato la famiglia Rodriguez, la famiglia Lecciso-Carrisi, di cui poi parleremo prossimamente, ma per ora soffermiamoci sulla famiglia Rodriguez. Dove ci sono io c'è sempre il profumo di Rodriguez, anche perché sennò poi come li facciamo questi ascolti? Infatti, noi il piccolo lo facciamo. Il piccolo lo facciamo grazie a Belen, però questo perché? Perché la scorsa settimana, ti ricorderai, ne avevamo parlato anche con Paola, io avevo fatto presente un tweet di Sabrina Ferilli contro Cattelan e a favore di Belen, perché aveva dato forfè all'ultimo, a Statera Cattelan. Sì, ne avevamo parlato insieme. Facciamo un passo indietro, perché effettivamente c'è stato un movimento da parte di Belen. Belen Rodriguez sui social ha dichiarato e ha fatto capire effettivamente di non stare molto bene. Non è un malessere fisico, ma è un malessere interiore, che ovviamente va ad intaccare il malessere fisico, quindi noi ne vogliamo prendere atto, visto che avevamo dato un voto basso la scorsa settimana. Lei ha postato delle foto dove effettivamente si percepisce un certo malessere. Credo che abbiamo anche una storia, se non sbaglio. Abbiamo una storia anche che lei ha pubblicato, che riprende proprio uno spettacolo di Elio Germano. Giusto Martina, Elio Germano, perché è uno dei tuoi attori preferiti. E anche il mio, sì. Che voto diamo a Belen e alla querelle Belen? Gli diamo un 8 a Belen. 8, dai, 8 a Belen. 8 a Belen. 8 a Belen affinché veramente si possa riprendere. Ha votato 8 o 10? Cioè nel senso, perché io posso essere tutto e niente. Io vedo gli autori dietro che si stanno sbracciando, perché non era 8. Regia, smentitemi, perché io ho avuto dei conflitti interiori quando ho dovuto fare la media. Volevo dare 10, ma mi son detto è troppo. Belen, riprenditi. E anche quando io ti do i voti bassi è invidia, perché io vorrei rinascere te nella prossima vita. Va bene, Valeria Rossi. Io preferirei De Martino, rinascere De Martino. Ma io Belen per stare con De Martino, Paola. Vabbè, vabbè. Io De Martino e tu Belen. Va bene. È perfetto. Valeria, tu chi vorresti rinascere? Io vorrei rinascere me stessa. Più figa di così, scusa, dove la trovo? Ha ragione. Luca, tu chi vorresti rinascere? Ma pure io. Forse Will Smith. Will Smith, ma per fare tipo il genio della lampada. Martina, tu chi vorresti rinascere? Io lui, perché non so chi sei. Ma lui chi? Eh, non so. Ma scusi, ma scusi, ma dove andrò? La mia sedia? Ma lei chi è? Ma come io chi sono? Ma da dove esce? Damiano Paternò? Ma non è nel cast. Istruttore di primo livello di rimorchio all'Università di Stanford. Ah, ecco sì. Insegnante di primo livello all'Università di Houston. Devo andare avanti? Sì. La mia sedia. Non ce l'abbiamo? Quella. Guardi, questa è la mia. Simone, io non mi fiderei. Ma io guarda, non mi fiderei. Non mi far parlare oltre, ma io non mi fiderei. Guardi, come è entrato, se vuole può uscire. Nello stesso identico modo. Ma perché lei mi sta importunando gli ospiti? Ma io sono fondamentale. Ma chi l'ha invitata? Ma io ci sono sempre. Quindi teoricamente lei è qui perché è un esperto. Per insegnare. E quindi è un esperto di seduzione? Seduzione, rimorchio. Ma quello della macchina? No, no, no. Ah. Rimorchio. In campo sentimentale io sono il primo. Ah. In assoluto. Ma allora, guardi. E navigo anche in acque internazionali. Guardi, noi abbiamo qui un'esperta, che è esperta in relazioni, la nostra Valeria Rossi, ma è affidabile. Dove l'abbiamo preso? No, no, fidati, è una vecchia conoscenza, non è assolutamente affidabile. Ma allora è tutta colpa di Valeria Rossi, scusate. No, non è affidabile, lui si intrufola, è proprio noto per questo. Ma che facciamo? Visto che qua... No, lo sfruttiamo, questo. Che devo fare? Facciamo. Vi risolvo anche questa. Ormai è nata così. E date una sedia e andiamo avanti. Non ce l'abbiamo questa sedia. Sto in piedi. Sto in piedi. No, non è qua, non è qua, non è qua. Ma che prendo in braccio, Paola, non è perché ora io faccio palestra qua. Vabbè, comunque, che vediamo io. Ma no, ma scusate. Ma siamo noi che chiudiamo gli occhi, Paola. Dottore, dottore, venga tra me e la Martina Gatto. Sì, dove è? C'è posto. Quando ci vedi ha già attuato la prima tecnica di dimortio. Grazie, grazie per essere venuto qui da noi. E quando si dice proprio il triangolo non l'avevo considerato comunque. Ma è venuto a rovinare la puntata. Le uova nel paniere, proprio a rotto le uova. Io avevo una domanda per Luca Giansanti. Lui è arrivato e ha rubato del tempo prezioso. Che volete vi dire? Facciamo questa domanda per Luca Giansanti. Ma per me corrisponde pure lui. No, perché io vorrei... Luca, io vorrei sapere, quando tu esci con qualcuna e questa qualcuna è restia e non te la dà, che cosa fai? No, ma questa è un'evenienza che... È rara? È capitato! Sì, cioè, tanto tempo fa, adesso non sono più avvezzo a queste pratiche. Cioè, tu hai detto dilettante a lui? C'è molta... No. Allora, Simone, quando è troppo è troppo, lo posso smascherare? Ma smascheriamo? Che cosa c'è? Mi posso alzare? Ci possiamo alzare? No, perché a questo punto io ti smaschero davanti a tutti e ci leviamo il pensiero. Sì, ma io ho fatto un casino per sedermi, adesso ci alziamo. Damiano, sì, sì. Dottor Paternò. Oggi sei dottor Paternò, ma va benissimo. No, ma, prego. Master di primo... No, io adesso te lo devo cacciare perché... No, 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 lui è più alto però. Adesso dimostriamo, Paternò, che tu sei un truffatore. Perché no? Dimostriamo, mi sei da tanto. Eh, perché io ho preparato... Io sono pronto a tutto. Io avevo delle domande per Gian Santi, adesso le faccio a te e vediamo. Visto che abbiamo l'esperto. Vediamo se sei preparato. Così, così forse puoi imparare. Ma scusami, se sei un esperto sicuramente sarai bravo, altrimenti Simone lo cacciamo. Lo cacciamo, vediamo. No, non ci siamo presentati, Paternò, molto piacere. Ma, allora, la mia prima domanda è questa. Sì. Se la tipa non ti scrive? Beh, non mi accollo. Al ristorante? Non guardo il culo alla cameriera. Se non risponde alle tue chiamate? Non mi apposto sotto casa. Ci sta, è malacrianza a chiedere? Le foto in perizoma. Ah, e anche? Delle tette. Delle tette, certo. Senti, Paternò, alla fine del primo appuntamento, che cosa fai? Io l'accompagno sotto casa e mi assicuro che arrivi sana e salva fino al portone e aspetto anche che entri. Ma, se appareresti al bacio della buonanotte? Non le ficco la lingua in bocca. Ci sta! Oh, ha studiato! Ha studiato! Quindi, riepilogando, se al primo appuntamento la tipa non te la dà, cosa fai? Io do tempo al tempo, lascio i suoi spazi, torno a casa, prima di andare a dormire, prendo il telefono e le mando la... Le mando la... La foto del cazzo! Basta, 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 grazie, come diceva Serena Bortone, buon vento, grazie, grazie, guardi, l'accompagno all'uscita per sicurezza che lei non so. Perché c'era la Rossi, grazie, grazie. Sì, perché tutte queste domande erano per me. Ragazzi, ma qui non abbiamo più filtri. Cioè, vedi, senza alimenti saresti terminato. Ma, scusate, la prossima volta dobbiamo mettere un secondino. Sarebbe stato meglio dire... L'uccello. Allora, facciamo una cosa, perché adesso, visto che mi avete stuzzicato, cioè adesso, in pochissimo tempo, in pochissimi istanti, visto che abbiamo cercato di capire cosa si fa o cosa non si fa ai primi appuntamenti, cosa si fa... Abbiamo noi giocato anche nelle scorse puntate a testare l'affinità, la nostra meta è sempre quella, simulare prima o poi un primo appuntamento, io direi di fare un gioco. Giochiamo a... Ci conosciamo? Ciao. Però facciamo tipo un gioco a squadre, facciamo un gioco a squadre, facciamo uno switch tra Lorenzo e Valeria. Valeria, Lorenzo passa dall'altra parte, Valeria vai dall'altra parte. Canto ormai siamo coppie di fatto. Facciamo una sfida... In che strada? Ah, noi ci dobbiamo switchare. Sì, sì, vai tu li, Valeria, sei di tiri, facciamo una sfida, maschi contro femmine. Mi raccomando, lui... Allora, io vi farò delle domande. Il gioco è il seguente, voi dovete dare le risposte che potrebbero dare loro e voi le risposte che danno loro. Partiamo semplici, abbiamo forse anche una musichetta in sottofondo per il nostro gioco. Partiamo da... C'è uno, c'è tutti e due. Sì, il colore preferito. Secondo voi, quale potrebbe essere? Il colore preferito, il colore preferito. Ce l'avete già? Sì. Loro ci stanno pensando di entrambe? Allora, partiamo da chi era sicuro. Lorenzo, il colore preferito di Valeria e Martina? Viola. Il viola? Valeria dice no, qual è il tuo colore preferito? Rosa. Il rosa, invece Martina Gatto che ha scritto? Ahia, ma l'altro giorno hai detto il viola. Andiamo avanti, andiamo avanti che il tempo scorre. Secondo voi, qual è il film italiano preferito dall'altro? Questo è difficile. Questo è difficile. Il film italiano preferito dall'altro. Martina Gatto pensa, Luca Giansanti suggerisce. Voi ce l'avete? Allora, partiamo da qui. Secondo Luca Giansanti e Lorenzo Maturri, il film che meglio identifica Valeria Rossi e Martina Gatto è? Perfetti sconosciuti. Perfetti sconosciuti. È bello, però. È un film che adoro. È un film che adoro, vero o male? Noi, vacanze di Natale. Ma come vacanze di Natale? Noi, Massimo Bondi. Perché sono trash? Vai. Perché sono trash? Ci sta. Avremmo detto vacanze di Natale o viaggi di nozze. Allora, ok. Guarda Gian Santi che fa sì. Adesso, a quest'ora si può. A quest'ora si può. Uomo o donna con cui farebbero fichi, fichi. Loro? Eh sì. Personaggi famosi, ovviamente. Vabbè. Forza. Potrebbe essere, sai? Potrebbe essere. Sono molto... Voi che ce l'avete? Eh sì. Vai gelendo. È solo per... Non è per tutti. Eh sì, no. Va bene. Allora, no. Si sa che io e Luca non è che abbiamo... Non li chiederemo mai per una... Allora, andiamo da... Partiamo da... Voi avete scritto? Favino Argentero. Favino e Argentero. Che mi dite? No. Io vorrei un altro. Dicelo di italiano? Italiano? Italiano. Ma per forza italiano. Ma metti caso che poi lo incontro e esce. Eh beh, già se ci portiamo avanti, scusami. Ma mamma, ma c'era Edoardo Leo. Brava! Edoardo Leo. Meglio. Vabbè, voi che avete scritto? Noi Belen. E De Martino. E invece no. Allora ci seguisse Edoardo Leo anche per me. Ultima domanda! Edoardo Leo. Ma tu dice non litighiamo? Ultima domanda perché a quest'ora si può, visto che abbiamo parlato di yoga con Margosi Gaboni, rimaniamo sul tema delle posizioni. La posizione preferita. Posso fare i complimenti agli autori comunque per questo gioco? Mi piace. Ah. Vi prego, qualcosa che comunque si possa dire. Vabbè. La facciamo capire, lei? No, non bello. Benissimo. Vabbè, rimaniamo in tema veterinario. Esatto. Voi avete scritto, ce li abbiamo, che è a tombola. Ma che avete fatto voi? Dai, su. No, poi gira un attimo. Ma che è, una tombola? Dici. Che hai scritto? 69. Sì. Che è quella più standard. Sì. E 71 che ci spiega... Luca già ti sa. Ma non è, non è, non è, non è. Ma qual è il 71? C'era il 71? Perché io avevo 90, ma era il morso che parlava. 90 fa paura. È 69. Il 71 è 69. Ok, qualche giorno dopo. Ma dilla a me la dico io. Mi avete scritto? No, basta, che ci ho scritto. Noi siamo rimasti nell'ambito veterinario. Scusate, perché avete fatto Doggy Style. Scusate. Qual è il primo piano regia? Noi abbiamo fatto il Doggy Style, l'abbiamo chiamato diversamente. Non lo fare. Non si vede, niente, va bene. Dillo, abbi il coraggio di dirlo. No, le buche fanno mula, perché ancora fa... Va bene. Allora, grazie a questo gioco, io non so chi dice. Scusate, rimaniamo in tema, Oro Scopando, Paolasi! Ecco, stiamo in tema. Questo dopo Margo Sighaboni, certo. Io stavo dicendo che la posizione preferita è la Cariola, però... Ecco, ma tanto tutte ci piacciono. Scusate, va bene. Oddio, si deve... No, noi iniziamo con l'Oro Scopo, dai, con l'Oro Scopando. Dammi belle notizie. Vai, partiamo subito. Ombre, Paola? Vai, con l'Ariela. No, va bene, lo vediamo, dai. Ariete! Eccomi. Beh, l'Ariete volete sempre fare il gallo o la gallina del pollaio, ma non tutte le galline stanno al gioco, ovviamente, quindi siete antipatici o saccenti, quindi nonostante la vostra fama di lati lover o di mangiatrice di uomini, beh, questa settimana sarete in ritiro portato. Eccola. Tuor, Martina. Va bene, ci sta. Ma, povera, ci sta. Con la parola a dormire, tutti i mati. Va bene, ci sta. Già, sono due settimane. Non avete fortuna in coppia, diciamolo chiaramente, ma la colpa è anche vostra, che non sapete farvi amare, ma almeno in questa settimana va meglio da single, perché potreste trovare una novità che vi piace e pensare solo a quello. La noia non vi erotizza, ma guarda caso. 4S, la parola d'ordine è novità. Gemelli, segno d'aria, vi piace essere al servizio dell'altro, lo sappiamo, quando siete dentro una nuova storia. Nel caso in cui siate in coppia da tempo, avrai voglia di litigare, perché le minestre riscaldate non ti piacciono, ma c'è sempre qualche variante sul sesso da sperimentare. Sei un burlone e anche un belichino. 4S, con la parola d'ordine, varianze sul sesso. Cancro, segno d'acqua, vi piacerà talmente tanto il sesso in questa settimana che il partner dovrà fermarvi se vuole prendersi una piccola pausa. Potreste anche in un momento di follia conoscere una persona e chiedere la mano appunto a una persona che conoscete da poco, ma poi pentirvi il giorno dopo che avete fatto questa bravata. 5S, con la parola d'ordine, scatenati. Leone, segno di fuoco, se state in coppia da tempo sbadiglierai, spesso e volentieri. Se ci tieni dovrai impegnarti di più, altrimenti concediti a qualcun altro, ovviamente. Tu non vedi l'ora? Vorresti stare nel letto di chiunque per soddisfare le tue voglie. 4S, con la parola d'ordine, concediti. Vergine, segno di terra, eccolo qui, sarete più smielati che mai, diciamolo. Vorresti essere il punto fermo dell'altra persona, colmare così le assenze passate, perché sappiamo che tu sei l'abitante, spesso e volentieri. Il sesso ti piace, ma non ci pensi in questo momento. Farei progetti più da mulino bianco che da avventuriero. 5S, con la parola d'ordine, smielati. La bilancia, che è un segno d'aria, farete tutto per piacere, ovviamente. Con piacere, eh? Il partner e chi conta al lavoro. Siete pratici e non vi perdete in chiacchiere. Anche a letto non badate per i minari. Godrete a dominare l'altro anche per gioco. Mettetelo sotto. Questa è la parola d'ordine. 4S, parola d'ordine, pratici. Scorpione, segno d'acqua. Eccolo qui, c'è un po' despoti in amore, ovviamente tirannici. Volete che il partner sia a vostra disposizione anche nel sesso? Cercate di far scegliere a chi sta con voi il momento opportuno per deliziarvi. Non fate la parte di chi si eccita mettendo sotto l'altro, assolutamente. Ogni tanto state sotto. Potrebbe piacervi come posizione, perché no? 3S, con la parola d'ordine, cambiate posizione. Sagittario, segno di fuoco, la vostra vita è caotica, piena di dubbi. Dovete fare i bravi a prendere in mano la vostra esistenza. Cominciate dalla vita 2, mi raccomando. Cercate di agire solo distinto, e non solo distinto, anche a letto. Ogni tanto i preliminari contano e essere un po' più dolci anche. 3S, con la parola d'ordine, preliminari. Capricorno, segno di terra, siete in procinto di sposarvi e fare figli. Almeno questo è il progetto di vita. Diciamo che uno sbadiglio ci sta benissimo, ma se per voi la tranquillità vi soddisfa, programmate pure quanto volte farlo durante la settimana. Il destino vi premia per la vostra banalità, almeno a letto. 5S, con la parola d'ordine, sposateli. Però io ti do 5S perché la normalità piace a tutti, no? Ovviamente. Esatto, no? Anche se a me fa sbadigliare un pochino. Acquario, eccolo qui, segno d'aria. Recuperate il terreno in amore perché siete sempre una scheggia impazzita. Diciamolo. Dovete impegnarvi di più nel rapporto a due. Non mettete in mezzo qualcun altro per avvivare la coppia. Sarebbe uno sbaglio, diciamolo. 3S, con la parola d'ordine, impegnatevi. Pesci, ultimo segno dello zodiaco, segno d'acqua. Siete dei rompiballe, diciamolo, con il partner. Senza pensare che voi di difetti ne avete tanti. A volte neanche ve li fanno notare. Fate la parte del micio macio, mi raccomando, con chiamate. Vi è sempre premiato chi è in cerca di protezione. E al momento opportuno tirate fuori il testosterone, per non dire qualcos'altro. Grazie in eccesso. Correte ai ripari. 3S, con la parola d'ordine, micio macio. Loro scopando della settimana con la nostra regina della notte. Io ringrazio e saluto Martina Gatto. Grazie di cuore. Buonanotte. Grazie a Valeria Rossi, grazie a Luca Gensanti, grazie a Lorenzo Matulli e grazie alla nostra regina, Paola Aspri. Ciao, a Giammani. Grazie Paola, grazie davvero di cuore, grazie a tutti i nostri amici del Salotto. Siamo arrivati alla fine di questa nostra prima puntata della settimana, la sedicesima. Come vi dicevo all'inizio, siamo partiti da Margosi Caboni. Abbiamo raccontato la sua vita, le sue storie, le sue emozioni. Abbiamo anche cercato di comprendere come ridare valore a noi stessi, riappropriarci della nostra vita, della nostra personalità, fermandoci e ricordandoci anche di respirare. Poi ci siamo divertiti tanto, come sempre, con i nostri amici del Salotto e quindi adesso l'unica cosa che rimane da fare è andare sotto le coperte, rimboccarsele e soprattutto fare bei sogni. Se vi va, ci rivediamo domani alle 23.30. Buonanotte. Non si può essere romantici prima di mezzanotte Si diventa patetici, burocratici Fra la gente che corre, che mangia, che parla più forte Ma ci vogliono due calici alla luna E la città che è diventata una fortuna Con le strade larghe e senza macchine Dopo no E dopo no Non si può non essere romantici Dopo la mezzanotte Si diventa patetici, burocratici A non essere romantici Dopo la mezzanotte Dopo la mezzanotte Dopo la mezzanotte